ciao ragazze oggi andiamo a vedere come realizzare queste nail art in 3d in maniera molto semplice e veloce basta utilizzare questi stamping in silicone sono dei stamping che potete trovare su aliexpress o chain io qui avevo utilizzato quelli con i fiori ma adesso voglio farvi vedere come utilizzare questa con i fiocchi troverete naturalmente anche altri soggetti fra cui scegliere allora io in questo caso sto andando a realizzarmi un french e subito dove andremo ad applicare il nostro decoro questi stampini in silicone sono sicuramente un'idea molto valida in alternativa per chi magari vuol decorare comunque ancora non è pratica e sono molto veloci quindi adesso vado a mettere un po di colore rosso all'interno del nostro stampo e vado poi a sistemarlo con un pennello liner faccio una prima stesura polimerizzo qualche seconda e poi faccio anche una seconda in modo da poter coprire bene il nostro disegno polimerizzo e vado a distaccarlo utilizzando le pinzette come vedete è un decoro molto sottile vado ad applicarlo con un po di base rubber mi aiuto con le pinzette per sistemarlo e farlo quindi anche aderire per bene alla nostra tip infine vado a polimerizzare 60 secondi e poi vado a sigillare sto sigillando il fiocco con un top lucido ma è possibile anche farlo con un top matte come vedete ragazze è un decoro molto facile e veloce da realizzare e potrete anche scegliere fra diversi soggetti spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando seguitemi per altre idee ciao